A Serino i ladri di appartamento non si fermano nemmeno con le bombe d'acqua. Ieri sera quando vento e pioggia flagellavano la zona del Serinese in più punti alla gata, i malviventi tra le 19 e le 20 sono entrati in azione a Serino e San Michele di Serino, saccheggiando due abitazioni ingenti, bottini dei due colpi con i ladri che sono riusciti a trafugare oro, gioielli e contanti. I ride sono stati eseguiti con le persone all'interno delle case, raccolte al piano sottostante degli stabili, mentre i ladri, dopo aver forzato gli infissi e scalato la facciata dell'edificio, mettevano a soccuadro le stanze al secondo livello dell'appartamento a caccia di preziosi e denaro. La comunità di Serino ormai vive nel panico dopo l'escalation di furti perpetrati nel settembre scorso, quando era stato profanato anche il cimitero. Il clima non è cambiato, paura e tensione con gli anziani barricati in casa e preoccupati di finire nelle mani dei malviventi. Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, già mesi fa, ha invitato il prefetto e il comando dei carabinieri a intervenire per rafforzare i controlli nella zona. Il periodo dove i ladri di appartamento colpiscono con maggiore frequenza si conferma anche nel fine tra settembre e dicembre. Risale la tensione anche a Contrada Archia d'Avellino, dove alcune serie fa è stata svaleggiata una villetta al via. I lavori per illuminare la Contrada, più volte complice all'oscurità bersaglio dei malviventi, ma i residenti chiedono l'accelerazione dell'intervento per riportare la luce a più presso, per evitare l'assalto durante le feste di Natale. giorni che da sempre fanno gola alle bande di ladri di appartamento.